Crescere Felix è un patto fra ASL, scuola e famiglie per combattere l'obesità di ragazzi e bambini. Un fenomeno, quello dell'obesità infantile, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato epidemia globale. Il piano regionale prevede la promozione delle abitudini alimentari mediterranee e la diffusione delle attività di educazione alla salute. Un piano che vede insegnanti e famiglie al centro di percorsi educativi specifici, che valorizzano il momento della riflessione scolastica, favoriscono l'incremento delle verifiche nelle menze e delle tabelle dietetiche, sostengono il valore dell'attività fisica sin dalle età più precoci. Prevista la presa in carico nel percorso clinico assistenziale del bambino adolescente sovrappeso obeso, concordata tra Assessorato alla Sanità della Regione Campania ed Ufficio Scolastico Regionale la necessità di interagire con azioni che prevedono formazione e aggiornamento agli insegnanti, laboratori didattico-ricreativi per gli alunni, laboratori formativi ed informativi per i genitori. Crescere Felix prevede per la scuola la promozione di una corretta alimentazione individuando i cibi adeguati, l'insegnamento agli alunni ad apprezzare merende alternative abituandole all'uso del miele, per esempio, o della marmellata, la garanzia ai ragazzi di tempo adeguato per consumare la merenda, l'assicurazione di un adeguato svolgimento di attività fisica. La famiglia dal canto suo si impegna a considerare la prima colazione un pasto di fondamentale importanza, a consumare la prima colazione con calma ed in compagnia, ad offrire ai ragazzi alimenti vari per non rendere la prima colazione un atto monotono, a stimolare e favorire momenti di attività fisica, riducendo la sedentarietà. L'ASL, anche quella di Salerno, si impegna a trasmettere a docenti e genitori nozioni sulla corretta alimentazione, a stromministrare un questionario a genitori e alunni per conoscere le abitudini alimentari, ad educare al consumo consapevole degli alimenti, leggendo attentamente le etichette, a provvedere alla formazione di docenti, a fornire indicazioni ai genitori sul rapporto tra attività fisica e salute. Per la conduzione locale del piano è stato costituito un gruppo interdisciplinare dell'azienda sanitaria che raccoglie le diverse competenze necessarie. Per l'ambito territoriale ex ASL Salerno 1, referente è Usvaldo D'Amico. Sinora hanno addirito diverse scuole, il terzo circolo di Nocera Inferiore, il primo circolo di Nocera Superiore. A Rocca Piemonte c'è stata un'adesione, l'istituto comprensivo di Castel San Giorgio ha detto sì, parimenti il circolo di Scafati, il primo circolo di Sarno, il terzo circolo di Sarno, il secondo circolo di Pagani, il primo di Cava dei Tirreni insieme al terzo. L'istituto comprensoriale di Vietri sul mare e l'istituto comprensoriale di Tramonti.